Non è la commissione di vigilanza a dover concedere le deroghe. Con queste parole l'assessore alle attività economiche produttive Carla Cecchetelli precisa le competenze della commissione da lei presieduta, replicando alle critiche avanzate dal consigliere Santorelli. In una nota inoltre il sindaco Seri precisa che l'amministrazione ha concesso il patrocinio e la deroga per i decibel con apposita ordinanza. Ma venerdì sera ARPAM ha compiuto il rilevamento dell'inquinamento acustico nelle abitazioni vicine all'area degli eventi musicali e ha constatato che il limite è stato superato, quindi è stata revocata la deroga precedentemente concessa. Il comune si dice comunque pronto a collaborare fin da ora per migliorare insieme agli organizzatori un evento che potrebbe essere inserito nel calendario delle manifestazioni estive fanesi. Trovandosi a dover rispettare determinati decibel che nonostante tutto noi quest'anno abbiamo dato anche delle deroga nelle varie zone, Lido, Sassonia, Centro e quindi da rispettare l'ordinanza che è la deroga acustica che è stata data dall'ufficio ambiente e quindi se dopo per loro non erano sufficienti noi non possiamo andare oltre penso a quello che abbiamo già derogato rispetto agli anni passati. Cecchetelli ha poi precisato che il comune sta lavorando per cercare un luogo idoneo non vicino ai centri abitati in cui realizzare un'area polivalente. Fra le ipotesi rientra anche la zona di Chiaruccia e l'aeroporto. Infatti, viste le numerose richieste pervenute da cittadini e organizzatori di eventi, c'è la necessità di individuare una nuova struttura dove poter organizzare concerti, feste e manifestazioni di vario genere. L'area inoltre rimarrebbe a disposizione anche della protezione civile in caso di emergenze come calamità naturali. Serve anche per gli spettacoli viaggianti perché ogni anno ci si ripropone il problema del circo, la giostra, questi spettacoli itineranti che abbiamo sempre difficoltà dove a collocarli perché l'unico posto è la pista di Ego Car, ma anche lì c'è l'amministrazione, è un progetto sopra di riqualificazione dell'area, della strada delle barche e quindi prima o poi quell'area non sarà più disponibile. Certamente quest'area deve essere, bisogna fare degli investimenti perché necessitano dei sottoservizi, impianti elettrici, acquedotto, fogne, ecco, quindi cercare di individuare un'area dove ha questi servizi oppure minimi indispensabili per poterle adibire con costi sicuramente contenuti.